ragazzi buongiorno e benvenuti a una nuova guida di elden ring oggi nel let's play slash run guidata vediamo come completare l'accademia di raya lucaria primo passo è quello di arrivarci all'accademia perché non ci si può accedere ci si potrebbe anche c'è direttamente però in metodo più veloce andare qui alla strada maestra di liurnia nord e scendere verso queste ruine e trova un teletrasporto questo non è l'unico teletrasporto ce ne sono un paio tra questo è quello più semplice da ricordare e da utilizzare eccolo qua sa anche vicino al punto di grazia raggiungiamo un'altra destinazione e ci troviamo davanti al cancello dell'accademia prendiamo il punto di grazia io già l'ho preso e se andate avanti qui c'è questo soggetto che è morto che vi dà un item che è questo qui e ti dice dove trovare la chiave dell'accademia adesso vi lascio una clip dove ho registrato come fare a prendere la chiave ragazzi eccoci qui troviamo la chiave dell'accademia dobbiamo fare quel drago che forse adesso non si vede bene che sta in fondo a tutto e se vedete questa parte della mappa troviamo pure questo contrassegno così non ci confondiamo dobbiamo andare qui adesso vi faccio vedere come si fa la parte del drago naturalmente per quelli che stanno vedendo la guida all'accademia di Raya Lucaria la velocizziamo dobbiamo andare a prendere la guida all'accademia perfetto per i ragazzi anche che stanno vedendo la puntata della guida all'accademia di Raya Lucaria vedete qui ce ne sono dei coltelli qui c'è il grasso dracolacerante esattamente qui c'è la chiave dell'accademia la chiave per rompere il sigillo dell'accademia se non volete fare il drago potete venire con torrente fino a qui prendete la chiave di scintipiedra dell'accademia e ve ne andate non è tanto complicato ci si riesce e adesso vi lascio alla guida dell'accademia perfetto presa la chiave possiamo esaminare il sigillo ed entrare dentro ragazzi questo posto è il labirintico è più il labirintico del castello di Gran Tempesta che vi lascio il link da qualche parte alla guida però ci sono meno boss stranamente tocchiamo la grazia ragazzi quella è l'entrata dell'accademia ma prima di entrare dobbiamo fare un po' di cose innanzitutto facciamo una cosa riposiamoci e facciamo accelerare il tempo fino al mattino così è tutto più luminoso e ci vediamo meglio perché dobbiamo fare un po' di cose proprio qui stranamente innanzitutto andiamo da questa parte continuiamo e prendiamo il seme questo è assolutamente a gratis poi torniamo indietro e credo che è una cosa che sia che è altamente utile e che nessuno ci avrebbe mai pensato è quella di toccare questo sigillo perché se esaminiamo il sigillo prendiamo direttamente ci teletrasporta in una nuova locazione che si trova esattamente qui c'è anche la legge dita però per adesso non ci interessa questo tra l'altro è un altro modo per entrare in Rai e Lucaria se entrate da questa parte dovete fare l'opposto per prendere la gratis dall'altra parte tra l'altro esattamente in questa gratis che abbiamo toccato se vi riposate e chiamate Melania Milena vi esce anche Bok se avete completato la questione di Bok ok ultima cosa che ci rimane da fare è andare qui vedete c'è questo segno di evocazione e dobbiamo aiutare Yura a sconfiggere un soggetto naturalmente questa parte è opzionale però vi fa andare avanti con la quest di Yura che è quello lì che sta vicino al lago dove c'è il drago nella regione di Iniziane ok dobbiamo sconfiggere il tizio qua devo cambiare le fiaschette come mai c'è così poche fiaschette forse quando ok è tizio è andato per il male ciao Yura forse adesso ci parliamo pure questo qui è il tizio che trovate all'inizio proprio del gioco che sta sotto un'arcata crollata oh ci sta la scena di guarda rapace delle nebbie con questa cosa qui mi avevo dimenticata ma scusa non stava dovevo uscire da queste parti non ci dice nemmeno grazie eccolo qua ci parate un secondo e vi da pietra della forgiatura 5 attenzione deve andare a visitare Eleonora ha detto ci consiglia di fuggire aspetta un secondo poi andiamo anche a sconfiggere Eleonora dobbiamo fare ancora un'altra cosa prima di entrare dobbiamo scendere per questa strada qui ci sono un sacco di lupi però ci sono due cose importanti se volete li potete uccidere non vi danno niente danno un po' di rune questo è pure grosso qui c'è un mercante che vende questa cosa qui vende un po' di aiuti tra cui questo qui del villaggio della frenesia che proprio dopo vi faccio una guida su questa cosa questi ceneri di demone e zanuto e poi ricordatevi che vende le ceneri di guerra per tutti che vi permettono di duplicare le ceneri di guerra e in più vende tre spade chiave della spada di pietra questi qui sono anche abbastanza importanti questi indizi però dopo poi vi faccio una guida fatto ciò qui i lupi non si possono chiamare c'è quel nemico temibile là sopra che c'è un paio di loot sotto adesso li andiamo a prendere questo è il cavaliere lamiere se vi ricordate è abbastanza tosto non andatelo subito addosso però c'è poca vita come avete visto scusate e vi da una lacrima di luna che è è pure importante questa cosa qui non mi ricordo esattamente che fa adesso andiamo a vedere velocemente bisogna trovare un secondo eccola qui ah poi ve lo spiego che cosa fa questo qui semplicemente se avete la lacrima di luna se siete diventati nemici con qualche NPC la lacrima di luna se siete diventati nemici con qualche NPC vi permette in un modo che dopo vi faccio vedere di fare pace con loro e finalmente possiamo entrare nell'accademia l'unica cosa che dobbiamo fare visto che abbiamo cambiato un po' la build ma vediamo se ce ne abbiamo i tre semi non ce ne abbiamo dobbiamo cambiare questo non ce ne abbiamo sicuramente 7 e 2 vediamo se due cose significa che abbiamo tre cariche di mana dovrebbero bastare entriamo nell'accademia ragazzi mi sono scritto un sacco di note qui spero di essere il più chiaro possibile ricordatevi che la maggior parte dei nemici sono maghi naturalmente questa è l'accademia dei maghi è anche bellissima è veramente incredibile questa questa accademia qui ci facciamo assolutamente lo screenshot e andiamo avanti una cosa molto strana qua ci sta un piccolo loot non mi sbaglio ma niente di che si può assolutamente evitare una cosa che dobbiamo fare però è tagliare il segno libero da qua andiamo avanti qui ci sono i primi due nemici del gioco evitate le magine naturalmente che ricastrano poi uccidetevi quando più velocemente possibile se prendete il muro non li riuscite a uccidere e come vedete le magine vi fanno anche ragionevolmente male ma infatti ci curiamo da qua ci abbassiamo andiamo da questa parte che ci sono le statuette queste qui ragazzi se vedete il tempo di reagire vi fanno malissimo fanno delle mosse hanno un set di mosse incredibile però se le attaccate muoiono qua c'è il mago i maghi un paio di colpi muoiono ok dietro l'altare c'è qualcosa che tra la forgiatura furono le linea 3 adesso vi faccio vedere due cose che sono andiamo a vedere anche qui però mi sembra che qui non c'è niente c'è qualcosa non me lo ricordavo sono una piccola runa aurea 2 vedete quello lì è stato il primo segno che qualcosa non andava perché quelli lì sono quelle scalette che si abbassano e quindi ci doveva essere un modo per abbassare già da qui capite tutto c'è anche quest'altra marionetta ok questo è un altro è il primo segreto non ci dà niente però lo abbiamo preso fatta la prima stanza andiamo qui a sinistra prendiamo il luogo di grazia il sito di grazia e ci riposiamo un secondo ci possiamo riposare tanto non li aggramo i tizi nella stanza di prima vediamo un attimo ok adesso invece si va in un posto un poco molto strano in realtà e qui ci sono e qui ci sono dei nemici non temibili che però sono sempre i soliti nemici quelli lì che vi saltano addosso e vi aggrappano cercano di aggrapparsi a voi ce ne sono tantissimi quindi state attenti se si aggrappano se riescono ad aggrapparsi c'è il piccolo problema che vi tirano eccolo qua guardate oltre alla vita si prendono anche la mana queste qui e quindi se volete contare sugli incantesimi state attenti a come gestite la mana io per esempio a questo punto qui direi che non è una cosa saggia utilizzare una pozione perché i tizi potrebbero togliervela molto velocemente ok però vengono giù abbastanza facilmente questo qui cerca sempre di aggrapparli di aggrapparsi e ci riesce spesso vedete ci hanno fatto finire la vita della barra del mana ok adesso dobbiamo stare attenti perché già ci siamo dimenticati qualche cosa dobbiamo andare di qua mi sa sì esatto qui c'è una pietra di forciatura 4 e questa qui è facilissimo dimenticarsela è una delle cose che mi sono dovuto segnare continuiamo giù qui escono un sacco di questi esserini soprattutto quando vi avvicinate al ponte ne escono proprio tanti tanti questo ponte qui se ci provate ad attraversarlo ci sono due marionette che vi lanciano un miliardo e mezzo di frecce noi ce ne andiamo da quest'altra parte prendiamo un loot mi sa come si usa questo fregato che si tratta davanti magia stai sempre attenti così proprio si buttano soprattutto se state senza vigore non potete più attaccarli e non mi hanno nemmeno tante rune comunque questo ponte qui se lo attraversate diventa difficile la cosa perché vi aspettano in agguato vi tendono un agguato quindi noi andiamo da dietro stiamo attenti a questo qui che sta dietro al muro ok andiamo di qui e abbassiamo se non ci sentono e ci dovrebbero essere qui due maionette ci hanno anche una cosa buona infatti c'è neri di soldato di maionetta ragazzi questi qui sono buoni perché le maionette il problema è che non possono tancare però se incominciano a scoccare le frecce sono estremamente buone adesso qui sotto ci sono c'è un sacco di gente e incominciano ad esserci anche un po' di bestie fameliche eccola qua e e lì non ci dimentichiamo di andare a prendere qualcosa qui possiamo chiamare anche i lupi però vedete non abbiamo male a sufficienza andiamocene via che questo ci acchiappa e li chiamiamo i lupi semplicemente perché è più veloce e poi la mana non ci serve più eccole qua oh c'è la miseria questo non era morto è assolutamente una cosa consigliabile chiamare i lupi tanto fra poco c'è il punto di grazia dopo chiotti andiamo e qui sono diverse mi sembra tre o quattro bestie fameliche via 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 c'è ancora un'altra bestie famelica curiamoci va tra l'altro ragazzi adesso che c'è un minimo di pausa questa è una nuova build quindi ci dobbiamo un attimo abituare però molto più simile a quella del samurai il modo di combattere quindi siamo avvantaggiati ogni volta che cambio personaggio non devo imparare tutto da capo ok qui vogliamo andare in due posti uno è dove abbiamo visto il prima qui dietro c'è la cena di guerra e qui invece c'è un altro loot che lo prendiamo andiamo avanti bravi lupacchiotti avete fatto il vostro dovere vi siete guadagnati la pagnotta qui sono finiti i nemici non ci dovrebbe essere c'è questo un fungo niente di che poi ma io non lo so questa parte è qui comunque io consiglio di andarci da questa parte probabilmente questo è un posto in cui bisognava passarci scendiamo giù c'è questo soggetto qui che sta pregando i lupi sono scomparsi e poi ci sono questi tre che stanno pregando che sono anche abbastanza semplici non dando fastidio perché sono impegnati a pregare quindi muoiono in maniera proprio veloce e qui vi da un set completo di armatura da cavaliere cariano vedete quattro pezzi che secondo me è pure bellina ok fatemi vedere un secondo le note abbiamo ok andiamo di qui dovrebbero aver ucciso tutti e torniamo indietro da questa parte ok ragazzi ci siamo adesso adesso facciamo una cosa questo qui la dovremmo cambiare questa ampolla allora carichiamo tutta la mana carichiamo l'ampolla queste sono le pozioni qui c'è un nemico che non dovrebbe essere tanto formidabile però c'è quella quella spella del gravitone se si va a chiappa può essere problematico questa qua è buona oh c'è uno di vinta vuoi morire ragazzi quando perdete il ritmo in questo gioco è qualcosa di incredibile ok prendiamo il loot e io credo che fino all'ascensore dovremmo essere a posto adesso credo che il sistema più sicuro sia prendere l'ascensore qui girarsi verso sinistra di 90 gradi circa aspettare che arriva questa piattaforma e saltare questo qua lo uccidiamo per puro hobby e ci riposiamo in questo posto di grazia vediamo un secondo quante rune ci servono ci servono circa 6200 rune per un nuovo livello dobbiamo portare anche l'arcano al 13 per un motivo che dopo vi faccio vedere ok a questo punto usciamo fuori il tizio lì l'abbiamo fatto e seriamo da qui a sinistra qui c'è un tizio lo uccidiamo prendiamo il gliotto ragazzi questa qui è la ruota idraulica che Patch ci descriveva quando l'abbiamo incontrato l'ultima volta e sotto c'è una vergine di ferro che se vi ricordate Patch diceva che è ancora attiva c'è un sistema di teletrasporto che se ci prende ci teletrasporta quindi cerchiamo di non farci prendere magari vi metto una clip per farvi vedere se nel caso dovesse prendervi come fare a ritornare qui però la facciamo col samurai perché ho già il punto di grazia salvato e poi è molto più semplice perché è più forte ok qui scendiamo e lì c'è la vergine di ferro vedete e cerca di aggrapparvi non mi fate prendere ragazzi e soprattutto questo arriva velocissimamente da voi ok si puriamoci adesso cercherà di aggrapparci quasi sicuramente no saltate un po' in anticipo rotolate un po' in anticipo perché l'ultima parte dell'attacco è molto veloce oh ci abbiamo più 3 forgiatura 5 ragazzi quasi quasi non so se riusciamo ad aggiornare le armi però l'ultima del gatto coda lunga ci sono altre due cose da fare qui perché naturalmente ci potremmo anche teletrasportare prendiamo anche queste lucciole chissà chissà se servono chissà cosa servono le lucce ancora non abbiamo scoperto poi andiamo di qui saltiamo sopra queste rocce e andiamo a prendere quest'altro loot questo qui serve per duplicare le cene di guerra che adesso ve lo spiego in un secondo come funziona non ve lo riesco a spiegare però vedete il mio equipaggiamento ci hanno due cene di guerra che sono uguali e per farle uguali visto che sto utilizzando le armi a due mani non le armi a due mani la stessa arma in tutte e due le mani quindi sto facendo i dual wield per poterle farle diventare sanguinari tutte e due abbiamo dovuto metterci le cene di guerra e per metterci la stessa cene di guerra ce l'abbiamo dovuto mettere l'abbiamo dovuto duplicare e si fa dal fabbro alla tavola rotonda ok adesso prendiamo questa stradina uh ma dardi ce ne abbiamo vediamo di sì ne dovremmo avere perché qua risaltiamo sulla ruota però non arriviamo soprattutto arriviamo a un certo punto qui da questa parte non c'è niente però se andiamo di qua ci sono dei nemici piccolini e super fastidiosi stanno là fuori anche se non si vedono fate il lock e li dovreste lockare e ci ritiriamo uno a uno perché da soli sono semplicissimi vedete quando sono piccoli poi questi qui sono quelli lì che impazziscono li vedremo anche dopo e quando partono con quella con quella sequenza di colpi se vi trovate dentro a tre di questi tirano tutti quei colpi fuori ok questo si è andato a mettere dentro le tombe apposta purtroppo quando colpite e prendete un muro o qualcosa che vi blocca il gruppo diventate super vulnerabili ce ne dovrebbe essere un altro se non mi sbaglio no sono solamente due questi qui naturalmente adesso si alzano non si alzano più che strano ah sono questi quelli che si alzano sono pure quelli di dietro si alzano figurati ci deve anche un po' di vigore in giro tieni soldato marionetta volante attenzione e credo che questo è quanto per quel che riguarda la ruota la ruota idraulica che pure è bellissima questo è un gioco assolutamente incredibile ritorniamo all'autola scolastica che è l'ultimo luogo di grazia che abbiamo visitato vediamo se ci siamo dimenticati qualcosa ragazzi aggiungiamo questa parte per farvi vedere cosa succede se per caso dovesse venire dovesse venire intrappolati dalla vergine di ferro sotto la grande ruota idraulica naturalmente ne approfittiamo di questa pausa per dire che se il video vi è piaciuto vi è stato d'aiuto e lasciate un like aiutate tantissimo il canale ci andiamo giù questa parte la facciamo col samurai che è un po' più forte così facciamo i pipistrelli più velocemente dopo prendiamo ok ci facciamo prendere se moriamo ci abbiamo un po' troppa vita ragazzi dobbiamo prendere ci dovevamo far prendere un'altra volta ecco forse adesso ce la facciamo adesso proviamo a prenderci non ci ho preso adesso si gira e provo a prenderci un'altra volta no ci attacca prima ok però adesso ci provo a prendere siamo morti però come ci aveva detto patches non siamo morti in realtà siamo stati teletrasportati adesso vi spiego quali sono i problemi venite trasportati a villa vulcano che è esattamente qui e fino a quando non prendete un punto di grazia non vi riposate presso un punto di grazia attenzione non solo prenderlo non potrete uscire da qui adesso vi faccio vedere come si fa proseguiamo per la lava qui sono dei pipistrelli attenzione alla lava perché guardate come fanno male i pipistrelli fanno proprio malissimo e se state anche con un con i piedi nella lava questo non me lo ricordavo questo pipistrello morite duriamo utilizziamo la lanterna perché qui mi sa che dopo si fa un po' scuro attenzione a questi due pipistrelli come vedete prima sono morto sempre per la lava uno è andato uno è andato e un altro è andato ok continuiamo a costeggiare da questa parte qui ci sono una nuova specie di mostri c'è una nuova specie di mostri qui sono queste lumache di di lava noi assolutamente le schippiamo scendiamo scendiamo di qua scendiamo di qua saltiamo la sotto continuiamo a saltare saltiamo ancora di più e poi saltiamo su quell'altra piattaforma ragazzi qua state attenti perché lo vedete quel tizio quello qui one shot cercherà di aggrapparvi e vi one shot lo vedete con l'altro tizio sopra le scale pure vi one shot dobbiamo arrivare dobbiamo salire le scale e girare a destra andate corrite il più velocemente possibile e cercate di evitare guardate come corre veloce questo questo qui corre un poco più piano perché è un mago però prendete la grazia e riposatevi così si resettano anche i tizi e così vi potete riteletrasportare all'accademia di Raio Lucaria esattamente nell'aula della scolastica che è il punto di teletrasporto che sta sopra la ruota idraulica io vi lascio al resto della guida adesso incominciano le cose strane vedete questo tizio adesso lo uccidiamo questo non lo asciuttiamo con adesso vi spiego una cosa importantissima non so al 100% se questa cosa qui è vera però oramai abbiamo quasi la certezza allora prendiamo il forziere poi prendiamo questo loot e poi vedete qui c'è questa libreria qui vedete che ci sono i libri se la colpiamo non succede niente se succede la scrivania questa qui anche ci sono i libri però guardando attentamente le varie librerie c'è questa qui che non ci sono i libri vedete è completamente l'unica libreria vuota e se la colpiamo c'è un passaggio segreto ok qui prendiamo una pietra della forgiatura 4 e poi c'è questo passaggio qui che tra l'altro è anche abbastanza importante perché prendiamo un oggetto strano che abbiamo visto prima quando siamo passati per la ruota idraulica che sembrava impossibile da prendere la maschera di scintipetra di olivinus noi prima eravamo esattamente lì di fronte se si blocca il gioco cadiamo possiamo semplicemente fare il giro e rientrare dentro o vi potete trasportare a luogo di grazia come preferite l'unica cosa che sono un poco preoccupato è che uno questi qui non li one shottiamo da dietro ci vogliono due colpi non so perché ho fatto così ho sbagliato a premere e abbiamo usato la fiaschetta e adesso qui c'è una stanza in cui ci sono uno due sono mi sembra quattro stregoni più alexander e adesso ci ritiriamo perché non è una cosa saggia credo di affrontarli tutti e quattro cioè abbiamo i dagli però perché quelli sono caster adesso non so se viene solamente lui o vengono tutti quanti e poi un'altra cosa che non so è se questi in mano non la finiscono non la finiscono si sta avvicinando oh abbiamo sbattuto la spada contro questa maledetta gabbia quello già ci ha visto tiriamoci oh non l'abbiamo abbiamo avuto problemi perché non abbiamo cambiato la scimitarra con la balestra provo ad andare un po' più dietro vediamo se ce lo tiriamo se vi sentite confinati li potete pure andare a fare l'unico problema è che ci sta alexander dove è andato lui è andato qua dietro da esattamente dove sta alexander credo poi ce n'è anche un altro in fondo vedete ecco là ma io lo sapevo adesso dovrebbe camminare verso di qua cioè a questo punto convenirebbe conveniva probabilmente andare direttamente lì andiamo direttamente di là già ha chiamato pure alexander questo ok adesso ce ne dobbiamo andare perché due stregoni più alexander non li riusciamo a fare tanto alexander viene sicuro non dobbiamo aspettare tre anni l'unica cosa l'unica cosa l'unico problema di alexander è che non è suscettibile naturalmente al sanguinamento però comunque alla fine adesso sono rimasti esattamente due stregoni perché due li abbiamo fatti erano quattro tu muori ti mettevano troppo tempo per uccidere gli stregoni e questi castano come se non ci fossero domani ok questa porta qui non si apre e questa è un'altra cosa che vi fa capire naturalmente che ci sono degli altri passaggi segreti vaso rituale quando ci sono i vasi tipo alexander o i suoi amici vasetti ne escono sempre un sacco adesso qui ci sono con il mago davanti uno a sinistra uno a destra e uno dietro a questa scala e noi purtroppo quello dietro a questa scala è girato verso di noi e ci vede subito quindi noi andiamo subito di qua e cerchiamo di uccidere quando più velocemente possibile e poi continuiamo a salire verso sopra così vediamo chi abbiamo aggrato ecco li qua li abbiamo tutti i guadili li abbiamo aggrati ok ci curiamo tu muori è rimasto un altro sotto che dovrebbe ecco là sta facendo il giro noi ci andiamo da questa parte teoricamente teoricamente non ci dovrebbe vedere dietro di noi non ce ne dovrebbero essere più perché questo dovrebbe essere l'ultimo mago ok allora vediamo qui non c'è nessuna a parte questo questo loot qui non c'è nessun altro posto in cui possiamo prendere roba esatto mentre lì di fronte incredibilmente c'è il boss ragazzi vedete questa iberia senza che ve lo dico non ci sono libri vedete qui ci sono libri 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 questa è esattamente senza libri prendiamo di qui esatto prendiamo il loot vediamo anche una chiave della spada di pietra non ve lo dimenticate questo sta dietro l'altare poi saliamo su allora qui se vedete vedete il quadro il quadro finisce esattamente sotto questo passaggio però c'è questa stanza che sta dietro al quadro questa specie di comparto segreto vediamo se c'è qualcosa qua non c'è niente io ci porto in un'altra stanza segreta dove c'è il loot lì vedete questi vasetti se andate direttamente dal loot vi attaccano tutti quanti quindi noi li uccidiamo prima così dovremo fare anche le rune per fare il nuovo livello mi sa che ce ne sono altri due uno qua e poi sicuramente ce ne sta uno che mi sono dimenticato e prendiamo il talismano della scuola di pietra è possibile che non me lo so dimenticato ok e adesso apriamo questa porta qui che è esattamente la porta da dove siamo entrati che c'è tutta questa gente vediamo come siamo messi a fiaschette ci abbiamo teoricamente ce la potremmo anche fare a fare il boss però diciamo che non mi fido quindi ritorniamo un secondo indietro al punto di grazia prendiamo anche il livello sì perché dovremmo avere abbastanza rune vediamo quante ce ne mancano ce ne mancano esattamente 100 ogni volta così ci mancano 100 rune prendiamo una runa piccolina la utilizziamo e mettiamo quest'altro punto in arcano che ci serve ragazzi madonna ho preso l'aggro da questi andiamo direttamente dal boss vediamo se ci riusciamo senza prendere troppe magie uno dei problemi di questa build qui giriamo a destra così non incontriamo quello sulle scale è come se ci avessimo troppo poco vigore ok qui chiamiamo immediatamente i lupi perché ci sta il tizio possente oh figuriamo lo prendiamo in mana e poi proviamo no questa mozza qua non è proprio il massimo ok il problema è che questo caso qua non sta tanto fermo ok abbiamo messo la maledizione addosso però sono finiti i lupi ragazzi questa maledizione è incredibile vedete abbiamo finito anche il mana e abbiamo finito anche la vita però anche lui è quasi è quasi morto vedete infatti è morto incredibile la maledizione questa è la prima volta che ho provato quest'altra magia come si chiama artiglio di drago è andata molto male però respiro respiro marcescente è assolutamente incredibile l'abbiamo asciuttato il problema è la gestione del mana perché se chiamiamo i lupi dobbiamo riprendere un'altra pozza di mana come veniva a fare prima il respiro marcescente e poi chiamare i lupi solo che per chi fare i lupi ci vuole comunque un sacco di tempo e ci riposiamo ok ragazzi adesso andiamo al cortile da questa parte teoricamente ci dovrebbe essere solamente quel nemico quella vergine che ci ha preso speriamo che non ci uccide non mi fate prendere dalla vergine ragazzi sto preso un'altra volta se eliminate tutti quanti i tasti ok abbiamo fatto un po' troppo affidamento sui lupi state attenti a questi qui che ci sono i caster ok qui invece c'è un granchio gigante che pure ci prende e ci mette sonno scappiamo un secondo e eccolo qua qui dietro non c'è niente ritorniamo nel cortile prendiamo il loot questo lo uccidiamo pure questo lo uccidiamo per prendere questo qui bisogna saltare qui poi si salta qui e questa è una chiave della spada di pietra poi andiamo lì dietro che c'è un po' di roba interessante l'unica cosa mi sa che i lupi ci abbandonano non mi ricordo se i lupi ci abbandonano però prima che ci abbandonano i lupi andiamo qui a destra dovrebbe essere qui più o meno ok c'è un altro granchione che però stavolta non ci facciamo fregare lupi spostatevi e subito cerca di metterci sonno addosso e muore il granchio i lupi stanno semplicemente dormendo qui c'è un altro seme d'oro che chissà se ce la facciamo a prendere un'altra fiaschetta ci sono questi due soggetti tre soggetti ma questo è nascosto qua dietro noi siamo venuti di là andiamo a costeggiare questa questa struttura quest'altro inizio che lo uccidiamo ma c'è questo granchietto con lo schifido addosso ok forza l'uvo è tosto è duro come la pietra e ci sta ci dà questa maschera di scintipietra di carlos che è un elmo praticamente abbiamo dimenticato un liut ragazzi questo giro qua l'ho fatto per preparare questo video l'ho fatto tante volte probabilmente l'ho fatto tre volte e questo liut qua dietro non l'abbiamo mai preso niente di che però per una questione di completezza adesso ce l'abbiamo perfetto fatemi vedere un secondo che cosa ho scritto nelle mie note ok come siamo messi senza ok adesso torniamo indietro non andiamo al punto di grazia tanto dovrebbe essere inutile spero adesso moriamo naturalmente andiamo qui e saltiamo i lupi ci abbandonano saliamo questa scala continuiamo e qui siamo esattamente qua non c'è niente più ragazzi non ci sono riusciti ad andare e naturalmente se ho dimenticato qualcosa me lo mettete nei commenti poi magari facciamo un appendice anche a questa guida qui stiamo sopra l'area del boss c'è un altro liotto da prendere vedete qui c'è quel mappamondo questo non è un mappamondo mi sale una pietra una specie di luna vediamo questo forziere icona di radagon questo qui è un talismano che serve per castare più velocemente gli incantesimi allora qui a sinistra c'è un mago e lì c'è un altro mago però noi andiamo di corsa da questo uccidiamo prima che casta qualsiasi cosa poi uccidiamo questo ok qui prendiamo il loot dobbiamo fare altre due cose e poi abbiamo finito mentre qui c'è un altro mago eccolo là che è circondato dai vasetti uccidiamo prima il mago per tutto quello che ci fa più male e poi i vasetti uccidiamo piano piano adesso ci uccidono i vasetti e guardiamo su lock via da quest'altra parte era quando metto il lock male purtroppo quando faccio quella mossa si prende un po' di vita il gioco facciamo così non mai sottovalutare la potenza dell'agro prendiamo un vaso quando ci sono i vasetti ci sono sempre i vasi ok qui non c'è nessun altro anche in questa sezione è fatta tendiamo a riposare al punto di grazia e adesso dobbiamo fare ok dobbiamo fare altre cose perché in realtà per andare dal boss finale si va da quella parte però noi andiamo prima di qua e stavolta ci abbassiamo non possiamo utilizzare i rubi qua sopra quando di non farci vedere da nessuno giriamo a sinistra e qua c'è un mago non so se i manchi dall'altra parte ci hanno visto però vedete dall'altra parte ci sta se riuscissi a mettere il lock oh spada darato un obiliare questa qui è l'arma che usavo all'inizio lì c'è un mago eccolo lì poi ci sono uno e due e poi c'è quello lì sulla scala andiamo a fare prima uno e due evitiamo tutti quanti e poi dopo scendiamo e facciamo gli altri qui angriamo tutti quindi stiamo un attimo attenti ok se colpiamo il pavimento o la ringhiera qui è un problema sotto c'è un altro mago vediamo se riusciamo a beccare dove sta eccolo è morto questi qui sono semplici assolutamente carne da macello prendiamo tutta la roba questo lo prendiamo così è sempre per una questione di completezza facciamo anche questi due qua sotto che non li abbiamo mai fatti tranne i granchietti cerchiamo di farli tutti quanti almeno una volta ok adesso questo qui lo apriamo dopo e lo apriremo perché dopo c'è un nemico temibile che probabilmente ci uccide scendiamo giù e facciamo questo mago poi andiamo su e facciamo anche quest'altro mago e apriamo questa porta così abbiamo accesso a quest'aria qui direttamente dal cortile vedete lì è dove stava il boss dietro quel cancello possiamo venire direttamente qui e saltare e entrare ok detto tutto ciò questo è un'aria nascosta ragazzi se sbaglio qualche salto tagliamo perché il fatto è lungo e lo dobbiamo fare due volte quindi saltiamo sui tetti andiamo a destra poi a sinistra e qui ci sono due marionette una è quella lì e un'altra è quella cioè un'altra là dietro che lancia 8000 frecce lo trovate direttamente dopo che l'avete fatta perché questo qui se no li distrugge ok tagliamo qui andiamo a fare il giro prendiamo il loot una cosa che devo fare quando faccio il giro per imparare dove sono la strada bene i mostri e tutto il resto e devo ricaricare la partita così i loot non scompaiono perché dopo che l'avevi fatto la prima volta i loot poi non ci sono più e quindi tu hai una sola occasione per ricordarti tutto ok questa parte qua è assolutamente noiosa perché ci sono vedete quei tizi da sopra il mago alla fine e li dobbiamo tirare con la balestra abbiamo pure pochi tardi questi qui sono quei tizi che abbiamo tirato anche prima alla ruta idraulica che impazziscono questi sono per qualche motivo ecco lì che è impazzito fate finire l'impazzimento e poi ponete fine alle sue sofferenze un altro sta là questo qui però ci siamo chiamati pure il mago teoricamente dovrebbe venire prima il soggettino e poi facciamo il mago il problema è che qua sono tre soggettini ragazzi e quel mago là è tosto fa questi anche incantesimi diversi però forse adesso riusciamo a ucciderla senza chiamare l'altro l'ultimo soggettino ok perfetto chiamiamo l'ultimo soggettino e visto che ci dobbiamo ritornare questa storia qua la dobbiamo fare due volte ok una cosa buona di questa armatura è che ti cura pochissimo però ti cura col tempo e visto che adesso c'è tutto questo pezzo che credo che non prenderemo danno ci curiamo ok questa inizia la parte complicata là sopra c'è un yut che vi fa capire già che è la strada che ci dovete arrivare sopra col tetto qui scendiamo giù e qui scendiamo giù adesso potremo andare da quella parte però lì ci andiamo alla fine dobbiamo fare questo salto qui che lo dobbiamo fare in corsa naturalmente io finora non l'ho mai fallito ma adesso lo farremo continuiamo a premere il tasto della corsa mentre andiamo avanti la prima cosa da fare è uccidere questo uccidiamo questa manionetta purtroppo non mi hanno dato il tempo di spiegare ragazzi potete andare a destra o a sinistra da quel tetto andate prima a sinistra prendete questa strada qui perché se andate a destra dopo non potete ritornare più qua e dovete fare i tetti tre volte per completarli uccidiamo quest'altra manionetta dunque andiamo giù ok saltiamo qui qui c'è una trappa ragazzi c'è una manionetta a sinistra e una a destra che vi aspettano ecco qua ve l'avevo detto che se vi acchiappano avevamo finito il vigore se vi acchiappano dentro quel turbine di mazzate morite ok ceriamo la scala è lunga la scala ragazzi lo dobbiamo fare perché è meglio fare la scala che fare il giro tutto il giro dall'altra parte ok e qui prendiamo questa cesta con questa balestra del plenumio che non so a che serve però è proprio bella vediamo un secondo giusto per se la possiamo utilizzare a posto della nostra balestra ci vuole 14 di intelligenza e non ce la facciamo ok da qua non si scende da qua si scende adesso vi spiego anche dove stiamo noi siamo venuti possiamo scendere anche qui esattamente da lì da questa questa costruzione di fronte quello era il ponte dove c'erano i tre selini più il mago e questo era il loot che vedevamo quando siamo scesi per arrivare qui quindi adesso dobbiamo riscendere rifare questo salto impossibile correte saltate alla fine e tenete premuto sempre il tasto di salto prima siamo andati a sinistra di lì adesso andiamo a destra il problema di andare a destra è che ricordiamoci un secondo così vi faccio vedere qui è dove abbiamo fatto il salto vedete abbiamo preso il loot sopra quel tetto da quella parte noi potevamo scendere a sinistra là sopra ma non lo facciamo ok andiamo di qui quel loot lo possiamo prendere dopo sempre questi salini sono diversi state attenti e state attenti anche a non farvi buttare giù ce ne sta anche un altro sulla chiesa dopo lo vediamo ok in questo campanile non c'è assolutamente nulla tranne il tizio che ci sta sparando da sotto e dobbiamo scendere piano piano giù vedete dove stanno le assi di legno ancora solide e vi buttate qui ci sono ancora solide qui c'è sempre il granchio con la schifezza maschera di scendipetra dei lazuli o dei lazuli scendiamo di qua scendiamo di qua scendiamo di qua ok adesso vi faccio vedere qua dietro non c'è nulla qui vedete la cosa più semplice per orientarsi in questo posto è vedere che lì c'è il granchio con la schifezza addosso e qui c'è questa scala lunga speriamo fino in alto ragazzi inseriamo questa parte qui una volta arrivati qui dove sta la scaletta bisogna andare qui a sinistra prima prendere questo loot e c'è una chiave della spada magica questo è pure importante tra le altre cose facciamo giro di qua e prendiamo quest'altro loot qui tra la forgiatura 3 vi riporto esattamente al punto in cui vi ho lasciato e riprendiamo la visione del video esatto non prendiamo più niente quindi ci dobbiamo ricordare che per questa scala è inutile scendere dopo il problema è che non riusciamo a prendere il loot che stava esattamente alla fine di quel di questo dopo quell'arco perché non riusciamo a risalire là sopra quindi per poter andare lì dobbiamo rifare il giro che non è tanto tanto drammatico però adesso la velocizziamo un secondo questa parte ok ragazzi possiamo riprendere da qui dopo il ponte con i tre stellini e il mago e gli facciamo il giro andiamo giù qui vedete era dove avevamo fatto il salto prima nel giro di prima invece di fare il salto scendiamo qui da questo detto qui e arriviamo esattamente qui scendiamo ancora scendiamo ancora uccidiamo questo uccidiamo questo e prendiamo questo liut questo è l'unico liut che mancate se non tornate indietro e fare il secondo giro perché prima eravamo esattamente là sotto quando ci siamo detrasportati quindi potete non lo so vedete voi come preferite adesso saltiamo su questa chiesa uccidiamo questo e non scendiamo giù ragazzi assolutamente non scendiamo giù qui c'è una marionetta più un esserino la marionetta è facilissima l'esserino non lo vediamo speriamo che non si butta addosso non ci stiamo combattendo qui abbiamo troppo poco vigore con questa build l'esserino eccolo là adesso impazzisce fateli fare l'animazione perché se non comincia con la combo questo qui e poi mi mette sanguinamento questa cosa non ce lo dimentichiamo può essere letale ok andiamo avanti prendiamo questo loot non mi direi che ce n'era un altro c'era un altro esserino ragazzi gli esserini sono due adesso quello muore non me ne sono mai accorto ok adesso ricordiamoci che c'è il granchio lì sotto non saltiamo giù dobbiamo andare da qui per un sacco di buoni motivi il primo dei quali è quell'ietto sopra al candeliere questa runa ora lascia il tempo che trova però quello lì lo dobbiamo prendere facciamo di un cadere ok questa qui è un'altra chiave di scintipetra dell'accademia che rompe il sigillo e se vi ricordate c'era il tizio qua sotto che si chiama torps una cosa di questa e adesso ve lo faccio vedere che stregone tops io ci avevo chiesto guarda se trovi due chiavi e me ne fai vedere una ti sarò riconoscente per tutta la vita adesso vedete quella scaletta la dobbiamo andare a prendere l'unico problema è che là c'è un mago là dietro c'è un mago come è dietro c'è un mago e qua dietro pure c'è un mago quindi noi scendiamo giù e facciamo i maghi questo qui proviamo a fare velocemente prima di fare l'altro mago facciamo scendere la scaletta perché se questo qua ci uccide dopo possiamo risuscitare vi faccio vedere dove andiamo possiamo risuscitare direttamente al punto di grazia ok qua prendiamo il loot bozzini a stregone prendiamo questo altro loot cristallo polverizzante qua non ci andiamo ragazzi una cosa importante non voglio morire perché non mi voglio fare il giro da sotto allora però non so qua ci stava il granchietto che abbiamo visto dall'altra parte questo quando queste cose di cristallo più danno gli fate e più e più danno prendono dopo questo vi danno la maschera di scintipietra del bisabbio abbiamo preso tre maschere di scintipietra prima vedete eravamo lì quando siamo andati sopra abbiamo fatto il salto sul tetto poi siamo andati a destra e siamo scesi per quella torre ok adesso dobbiamo attraversare questo ponte e c'è un soggetto con una balestra che fa un sacco di danno ma fa proprio un sacco di danno quello lì per essere sicuri basta farlo così no non ci arrivano i dati eh ma ci abbiamo altri oh questo è venuto qua addirittura ok vedete ci one shot con che vi acciappa con le frecce se togliamo anche la balestra e mettiamo vabbè questa qui è l'occasione per farvi vedere lo shortcut comunque se avessimo avuto la spada invece della balestra sarebbe morto maledetto vi ho fatto vedere anche quanto danno fa purtroppo la balestra c'ha adesso ci teletrasportiamo esattamente qui alla chiesa del cucolo e noi già ce l'abbiamo questo teletrasporto perché è la prima sala in cui siamo entrati quando abbiamo iniziato l'accademia peraltro c'avevo la balestra per cercare di non morire quindi andiamo direttamente dal mago non attacchiamoli quando sono impazziti di sti cosi soprattutto se finiamo il vigore spostiamoci abbiamo fatto scendere la scaletta vero? vedete? adesso possiamo salire sopra ricordatevi che ci sono sempre i tre maghi e uno sta esattamente qui appena saliamo vero? ok riprendiamo le rune abbiamo troppo poca vita ragazzi quello là con una cosa ok però è arciere e muore subito se incomincio a scoccare le frecce schivatele ragazzi oppure vi spostate da corridoio da sinistra verso destra o da destra verso sinistra però ne scocca tre ricordatevi ragazzi abbiamo finito tutta questa prima parte adesso vediamo se mi sono dimenticato qualche cosa intanto che carica qua sui tetti siamo andati in chiesa ok adesso vado a fare il mini boss dopo l'entrata della palla perfetto ok prossimo passo dobbiamo andare più o meno qui scendiamo di qua passiamo qui andiamo sulle scale oh prendiamo questo liutto e stiamo attenti perché qui tra la forgiatura 5 c'è questa palla questa palla fa sempre lo stesso percorso quindi se vi trovate un posto tranquillo potete rimanere fermi e non vi uccide perché fa esattamente sempre lo stesso percorso vedete va a sbattere a destra a sinistra quindi se qui ci teniamo più o meno qua non ci fa niente fa corriamo e arriviamo soprattutto qui c'è un teletrasporto che per adesso non prendiamo e qui c'è un passaggio segreto che non possiamo aprire e lì c'è un nemico temibile ragazzi è molto probabile che moriamo se moriamo lo tagliamo perché qua lo dobbiamo fare un sacco di volte è possibile portare anche quel nemico lì sulla sulla sfera di ferro però è abbastanza complicato il fatto vediamo se riusciamo a uccidere ah questo vi para ragazzi vi para tutti gli attacchi questo è il problema ragazzi una cosa importante che mi sono dimenticato di dirvi è che il tizio lì ci para tutti gli attacchi e poi dopo ci riflette anche quindi se ci fare un attacco probabilmente ci uccide prendiamo le rune lo dobbiamo provare a fare con attacchi qui era un po' parale ok 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 questo è proprio difficile un'altra cosa che si potrebbe fare da qui non c'è niente ragazzi non c'è assolutamente nulla non si può andare da nessuna parte una cosa che si potrebbe fare è evitare questo tizio e andare direttamente qui aspettate uccidiamo prima il mago qua qui tizi la prima morte con il cavaliere ve l'ho lasciata così vedete il fatto che parate vi one shotta comunque se andate direttamente qui non uccidete i tizi correte fino a qua fuori passate questo ponte mi sembra quel ponte di Venezia li aprite qui dopo potete tornare anche da qui è leggermente più veloce per riprovare il tizio però c'è problema che quei maghi un colpo ve lo danno non ci sono mai riuscito a non prendere mai un colpo ok adesso entriamo qui e qui c'è la porta che prima era chiusa esatto la c'è un teletrasporto qui è il cortile dove c'era il mago abbiamo la porta segreta sali la scala uccidi uno più tre tizi ok quindi adesso saliamo qui là c'è una testa di zucca uccidiamo prima questo ragazzi vedete che vi dico non ce la rischiamo perché qua c'è un sacco di gente qua dietro quindi usiamo un'ampolla appena finiamo qua ci ricarichiamo il mana puntiamo quello e usiamo l'espino del drago qua uccidiamo i maghi così sennò li fanno neri intanto la zucca dovrebbe essere quasi morta ok adesso possiamo provare a uccidere la zucca e abbiamo fatto anche questa parte qui qualche cosa ci dobbiamo ricordare che dobbiamo prendere questo scarabello delle scintipetra qui dietro non ci dovrebbe essere niente esatto non c'è niente però saltiamo perché sotto a questo balconcino c'è un liut runa aurea 7 tra l'altro dovremmo avere anche le rune per un altro livello attenzione e adesso finalmente attiviamo questo teletrasporto tanto abbiamo fatto tutto ci manca solamente il boss ok prendiamo questo qui è utilissimo perché ci fa risparmiare un sacco di strada dopo perché vi faccio vedere dove ci porta ci porta esattamente qui qui abbiamo ah no questa è la galleria di cristallo ok qui c'è una tartaruga Miriel c'è pure il cappello del papa non lo sappiamo sostanzialmente qui ci possiamo redimere se abbiamo fatto male a un NPC così dopo non ci è più nemico ok qui ci dice un sacco di cose ragazzi poi le leggiamo durante il let's play andiamo avanti qui invece è dove potete espiare tutte le vostre colpe così gli NPC non vi sono più nemici se li avete uccisi naturalmente non tornano indietro e qui c'è un ago da cucito d'oro più attrezzi da struttura dorati così adesso possiamo cambiare ancora di più i nostri vestiti però ci fa andare avanti anche nella quest anche nella quest di Bok ragazzi e questo è quanto ci sono ancora due cose che dobbiamo fare numero uno dobbiamo uccidere il Nala adesso facciamo che è il boss principale di questo posto a differenza del casello di Grand Tempest qui ci sono solamente sostanzialmente tre boss cioè colui che sta qua dentro il tizio che abbiamo incontrato prima è più Rennala vi faccio vedere la strada per arrivare da Rennala che ci permette di evitare la palla di pietra perché abbiamo aperto anche se vi ricordate la porta sul ponte andiamo di qui ignoriamo tutti e uniamo questi ok adesso vedete quando arriviamo vicino a quella fontana qualcuno ci colpisce il mago qua ragazzi questo non non sono mai riuscito ad evitarlo oltre 50 volte sono passato da qua quel colpo là è impossibile da evitare prendiamo questa piattaforma e saliamo sopra adesso ci vuole un minimo di strategia Rennala non è difficile l'unica cosa che richiede tantissimo dps perché più tempo ci mettete per ucciderla e peggio è e più diventa forte perché incomincia a evocare un sacco di spiriti adesso proviamo guardiamo l'animazione bellissima questo non è bellissimo nemmeno noi siamo bellissimi in realtà un sacco di spiriti fresco e pura fresco e pura non fate del male non fate del male agli altri perché sennò si si arrabbiano ok una volta fatto dovrebbe scendere Rennala e la riempiamo di mazzate purtroppo non ci abbiamo tanto vigore ragazzi questo è un grosso problema e poi di nuovo e poi di nuovo vediamo se no si spara ci vuole un'altra con uno scudo dove sta la colla torniamo da Rennala che scende un'altra volta sono tre o forse adesso sono quattro no sono tre no da questo là ok è morta Rennala e adesso si va in fase due però ci abbiamo un poca mano mi sembra chiamiamo subito i lupi ah mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra Mather's rich slumber shall not be disturbed by thee ma mi sembra ful trespasser send word far and wide of the last queen of the last queen of the last queen of Caria lo avevo messo un po' troppo ok vediamo se riusciamo a colpire teoricamente 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 dovrebbe morire Rennala adesso comunque tutte queste magie ci fanno tantissimo male ma se la riusciamo a prendere questa è mago quindi un po' di aiuto dei lupi fuori l'abbiamo lasciottata è incredibile già la rimembranza più la runa maggiore del mai nato ragazzi adesso facciamo una cosa facciamo una cosa un po' brutta facciamo il tutorial nel tutorial anzi il tutorial nella guida è gravestone rinascita quando utilizzate una rinascita sostanzialmente potete fare il rispecchio del vostro personaggio ci vuole una lacrima di larva non la facciamo la rinascita e potete cambiare anche l'estetica del vostro personaggio andiamo a modifiche si ragazzi prendete il punto di grazia non fate come me questa cassa non si può aprire ancora poi in un prossimo tutorial vi spiego come aprire però ci sono un po' di cose da fare innanzitutto dobbiamo andare esattamente qui da tops esatto qua perché adesso abbiamo un'altra chiave per l'accademia tops sta qui e possiamo consegnare in realtà queste stregonerie oh guardate quanti errone ci abbiamo impariamole costano solamente 5000 perché adesso faccio un piccolo spoiler questo muore non consegniamo la pergamena perché questo muore consegniamo la chiave dell'accademia e ci dà queste mode sapienza continuiamo a parlare dice che ritorna all'accademia adesso vi faccio vedere come ritorna innanzitutto equipaggiamo qui rimonto sapienza che dovrebbe essere questa esatto perché ci servirà dopo torniamo all'accademia esattamente alla una scolastica si usciamo qui fuori e troviamo tops morto però ci dà un globo cinerio e ci dà il bastone di scintipietra dell'accademia credo che quel globo cinerio dopo vi faccio vedere che cosa si può fare e anche la barriera di tops ci fa mettere le magie dalla tizia a due dita alla tavola rotonda però visto che ci siamo e visto che questa parte qui la metto nel tutorial prima di fare questa cosa qui ci trasportiamo tra l'altro qui nella campagna del vendicatore ragazzi qua c'è il papà di irina se cercate sul canale vi faccio vedere che cosa succede quando andate lì andiamo alla torre ricostruita esatto e se andiamo a leggere questa cosa qui dice che la sapienza ti guidi quindi per sbloccare il puzzle basta utilizzare l'emote sapienza e magicamente aprirà una scala là dietro aspetta un secondo ma qua dietro non c'era qualche cosa controllate sempre dietro e possiamo prendere una pietra della memoria ragazzi per quelli che stanno vedendo il tutorial di come risolvere la torre ricostruita l'enigma della torre ricostruita vi lascio giù i link in descrizione di tutto quello che dovete fare noi andiamo avanti con la nostra guida adesso ce ne possiamo andare ragazzi mi sono dimenticato di dirvi una cosa nel vostro inventario tra gli oggetti essenziali troverete la runa maggiore del mai nato che è esattamente la runa che vi ha droppato Renala questa runa non funziona come le altre rune maggioni non deve essere attivata però vi da la possibilità di provo a fare sì di rispeccare il personaggio vi faccio vedere come si fa vedete e potete portare esattamente gli attributi ricominciano esattamente con gli attributi base del vostro personaggio e potete rimettere i punti come volete voi se volete cambiare build o fare qualche altra cosa noi non lo vogliamo fare e quindi non abbiamo speso nemmeno la larva e adesso non ci resta altro da fare che tornare alla tavola rotonda per dare la buona notizia alla strega per parlare con la tizia delle due dita abbiamo preso due rune maggiori adesso una era quella di Godric e una è quella di Renala di Renala sì vedete vedete come fremono di entusiasmo dobbiamo cercare l'albero madre e chiedere udienza alla regina Marika non so che questo giovane è Gideon e ci dà un'altra borsa talismano ragazzi possiamo portare tre borse talismano adesso e io credo che vedete per adesso ci metterei quasi quasi la tartaruga dove sta la tartaruga perché con il vigore siamo messi abbastanza male però poi magari vediamo ragazzi questo è quanto perché per quel che riguarda il tutorial dell'accademia di Rai e Lucaria questo posto è veramente bello mi è piaciuto tantissimo spero che sia piaciuto anche a voi noi andiamo da ah tra l'altro abbiamo anche il teletrasporto Renala adesso se vogliamo rispeccare noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial e una nuova guida di Elder Ring ciao